Sembrano non finire mai gli strascichi negativi del periodo in cui la raccolta dei rifiuti nei 35 comuni del comprensorio imperiese era stata affidata alla Tradeco. Ora infatti la procura della Repubblica d'Imperia sta indagando su presunte irregolarità circa l'impiego di camion per il conferimento di rifiuti nella discarica di collette o zotto. Stando alle indagini effettuate dal corpo forestale dello Stato, infatti all'epoca in cui Tradeco gestiva il servizio, sarebbero stati trasportati rifiuti con mezzi che non avevano le necessarie autorizzazioni per farlo. Per questo motivo quindi ex autisti della società pugliese e anche l'amministratore delegato Giuseppe Calia sono finiti nel registro degli indagati. Gli episodi contestati sarebbero avvenuti circa un anno fa e le indagini sono tutt'ora in corso.